Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio verso il lunch game di domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium contro il Venezia la Juventus continua la preparazione Allegri ritrova Arthur, il centrocampista brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo Ancora Juventus, Danielli parole chiare su Allegri, Del Piero e la Superlega il numero 1 bianconero blinda sostanzialmente l'attuale tecnico ed è pronto ad accogliere Pinturicchio se lui lo volesse nei quadri societari sulla Superlega si limita all'ironia Oltre al campionato la Juventus pensa al finale di stagione con l'appuntamento dell'11 maggio finale di Coppa Italia a Roma contro l'Inter sta lavorando anche per migliorare la propria rosa normale che la società stia pensando a sfoltirla per trovare il cash necessario per finanziare le tante operazioni in entrata i nomi in gioco sono sempre gli stessi Aaron Ramsey, ora in prestito al greco Rangers Arthur e Alex Sandro difficile anche il rinnovo di Bernardeschi e da capire il futuro di Morata Torino in campo domenica 1 maggio alle 15 in casa dell'Empoli arbitra Cosso dall'infermeria per P.A.K. escluse conseguenze legamentose recuperano anche Izzo e Mandragora i due giocatori Granata hanno preso parte alla sessione tecnica di allenamento diretta da Juric tira un sospiro di sollievo appunto Piacali infortunio di Bergamo si è rilevato essere un trauma distorsivo al ginocchio sinistro senza conseguenze gravi è tutto in regia Rosario Perez Zip News Zip News punto it le notizie nel modo più veloce Zip News